Tanti confronti, anche promossi dalle pubbliche amministrazioni relativi al digitale, ma la pubblica amministrazione è pronta davvero a recepire le suggestioni che abbiamo dato da questo incontro? La pubblica amministrazione è pronta perché sono pronte le persone, le persone ormai vivono il digitale ogni giorno nelle loro famiglie, nelle loro attività extralavorative e quindi conoscono gli strumenti, devono solo avere il modo, le modalità, i processi, la sensibilità dell'amministrazione stessa nel mettere in pratica queste che sono delle potenzialità enormi nell'avvicinare l'istituzione al cittadino. Adesso cosa c'è da fare? Adesso c'è da investire, investire in digitalizzazione, in formazione, in comunicazione pubblica e i risultati arrivano sicuramente.